Ehi ragazzi, guardate questo! Non mi sa che è perché oggi è un giorno maledetto Sì, secondo me è proprio un giorno maledetto Oh, la gente c'ha da fare il lunedì dagli tempo Oh, cosa vuoi Erva? Innanzitutto non alzare la voce Già visto bellissimo, grazie ragazzi, sono molto felice della cosa Bella come ad ogni live dici io sono Poldo Come se uno che apre la live di uno che si chiama Poldo debba iniziare con la sua presentazione Sennò la gente si confonde Allora, questa è una roba che in realtà mi dite molto Anche perché nelle storie Instagram io ho questo vizio di iniziare le storie dicendo Bella rega, sono Poldo, ciao ragazzi, sono Poldo Non lo so perché è un modo che ho per introdurmi Boh, non lo so È che iniziare qualcosa così a caso mi dà fastidio Poi la entro nella live, lo so, forse dovrei mettere io sono Poldo Cioè è ovvio, non lo so, ormai sono abituato a dire così Quindi continuerò a dire sempre così Puoi fare il Kaioken? No, non faccio il Kaioken davanti a tutti ragazzi Perché poi tutti scoprono il mio vero potenziale Ovviamente no, ovviamente non farò questo Kaioken Grazie a VDF Marco per il Prime Canzone sotto Take the Pain degli Stick Together Le autopresentazioni ci stanno, sì infatti è un po' Forse sono un po' cringe, non lo so, non lo so Va bene, stasera gaming con sedia Come potete vedere ho finalmente provato lo streaming congiunto Infatti dove c'è la lista delle persone che seguite noterete Poldo sta streamando con la sedia a due gambe E da sedia vedrete la sedia a due gambe sta streamando con Poldo Hanno tolto la Stream Squad Adesso è così, non lo so È più utile, è meno utile Buono, ne ho la più pallida idea Sta di fatto che adesso la proveremo E il 2 mi disturba Lui mi disturba mentre parlo con le persone Mi disturba mentre parlo con i miei genitori Mi disturba mentre parlo con i miei amici In generale mi disturba Ciao Gino, come stai? Tutto bene? Gino, ma tu ti ricordi quando a capodanno del 2019 Blur iniziò a spammare la parola Gino Ma perché? È un esempio di... Scusa È un esempio di... Di come possono essere sfruttati i social media per un tormentone Cioè ti dà fastidio solo perché tu sei stato la vittima Però ti posso assicurare che in realtà è un fenomeno molto interessante da analizzare E ancora grazie a Blur per le 5 sub donate un mese No, ma vai Grazie anche a Dreamwolf per il terzo mese Ciao, bello Allora, ragazzi Tra l'altro, tra l'altro Vorrei dire anche alla mia chat C'è una persona che ultimamente ha fatto un video Dove parla un pochino di trash Parla un pochino di cose legate Ed è poldo Ed è poldo, ve lo volevo dire Perché ha fatto un video davvero molto bello Secondo me abbiamo toccato The pick of editing Degli ultimi Mi sono... Si è cacato addosso, ve lo dico io Sto tutto cacato Sto tutto cacato Ah, la mia chat è già vista Ma siete proprio... Già visto Ciao, manquare Grazie per la sub Condividete, mettete like Attivate la campanellina Schipiti E bevete dell'acqua Today, boys We go for the gaming Bro, io sono su Heavenly Bodies You know what is Heavenly Bodies? Comunque, ragazzi Heavenly Bodies Provo a tenere la soundtrack Senza musica di sotto Sì, ma perché di solito, ragazzi Durante le mie live Io metto tipo la musica Nintendo Tutta quella movimentata Perché mi piace fare le cose dinamiche Questa volta no Questa volta starà Con la musica In the space We go We go chilling in the space Wow Wow Ragazzi, per chi non sapesse che cos'è Heavenly Bodies Adesso ci giochiamo Quindi non rompete le palle Perché non sapesse che cos'è il gioco Guardi, aspetti 5 minuti Perché stiamo per iniziare Che bello guardanti Mentre gioca a Minecraft Moddato fino alla merda Va bene, contatterò Mojang E ti faccio disattivare l'account Guarda che si possono mettere le mod Oggi sei molto irrequieto Al contrario della musica No, in realtà sto tutto Sto tutto tranquillo Sto solo un po' cacato Ragazzi, dovete capire Che sta scritto nel titolo Gaming nello spazio Dovrebbe essere abbastanza per voi Sì, dovrebbe Ma guarda Che gioco è? Gaming in the space Yeah, gaming Si fa il gaming nello spazio Stai scacato No, no Sto tutto cacato Però nel senso che sto tutto Positivo Dai, mettiamo positivo Fra, ma tu ci sei? Sì, sì, sì Sono già nello streaming Grazie Bentley Scusami, non avevo visto Domani ho un esame Ma per fortuna Le tue live sono sempre istruttive 2 più 2 Bro, ma tu hai un delay Sul controller? Ma... Io... Io no, per niente Ah, però te lo fa usare Ok Sì, me lo fa usare Però vorrei che facessimo le cose No, mi si è scollegato il controller Ecco perché No, bastardo Oh mio Dio Vabbè, cop locale E... Eh, fai una nuova Fai una nuova Questo era il test Ok Mettiamo classica Come modalità di movimento Sì, sì, sì Mi piace classica Mi piace Signore e signori Pronto Ma di cosa parla il gioco? Cioè, cosa si deve fare? Lo ripeterò per l'ultima volta Gaming Nello spazio Cioè, ci vuole tanto È come Fall Guys Però nello spazio No, non è come Fall Guys Non c'entra Fall Guys Non c'entra assolutamente Fall Guys Allora Hai premuto inizia? No, no, non lo faccio partire Perché c'è una cutscene E bisogna rispettare le cutscene Quindi grazie Andrex Per il quarantunesimo mese Porca puttana Quarantuno mesi Gaming in the space Questo simbolo indica il salvataggio Dei tuoi progressi Fuck bro Che è deep lore Wow Wow Questo è dove abiti tu? No, non è Non è Come si chiama? Bari Bari, ecco Stava pensando a una città divertente Bari Avrebbe detto Foggia No Ormai è banalissimo Come si chiama la Wow Gaming Space Questa è la nostra casa tua Sì Da dove è posti Quelli siamo Siamo già noi Hai sommato nel 2022 Scemo di merda Sei zitto Buonasera amici Allora Tecnicamente in questo gioco Noi siamo due astronauti Waka waka e Zamina Zangale Ma non la sai la coreografia di Waka waka Minchione di merda Stai zitto che dice Benvenuto a bordo Possiamo dare il via alle operazioni delle piaggio E delle paggio Dell'equipaggio Almeno leggi bene Usa L per muovere il braccio sinistro Wow L Ciao Ciao Amici dalla chat Ciao Ciao R per muovere il braccio a te Ciao Ciao chat Ciao Ciao Hello Afferrare qualcosa Alla mano sinistra Grab that ass Shake that ass Madafaka Con la mano destra Usa L per afferrare qualcosa Con la mano destra Ok Ma il tutorial lo puoi fare solo tu Una alla volta Perché riconnetti il controller di giocatore a uno? Ma sei tu il giocatore a uno? E mi si scollega il controller Non so perché No bro Rt per afferrare qualcosa L'ho afferrata Aggrappati alla maniglia e tira la leva 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 L'altra leva Aspetta Va in basso Va in basso Perché non mi fa tirare la leva Devi andare in basso Minchione di merda Non devi fare i piegamenti Scusa Scusa Sto andando Sto andando Lasciami Lasciami con quella mano sporca e lurida Lasciami Allora Io devo andare in basso E prendere quella leva Devi dare una calmata Guarda Mi sposto Mi sposto Mi sposto Ok Ci sono Guarda Mi sono spostato Ora fammi prendere la maniglia È un momento Non ci arrivo bro Non ci arrivo Non ci arrivo Non ci arrivo È la prima cosa che dobbiamo fare Ti prego Ok Aspetta Basta che mi tengo attaccato a te Ok Golden Golden Aspetta Golden Jumpy Aspetta Ci sono Mi stai spostando dalla terra Ce l'ho fatta Predimi un piede Predimi un piedino Ma tu sei Vital Company Bravissimo Guarda guarda Hello my baby Aspetta Lasciami un attimo il piede Mi metto dritto Lasciami il piede Allora Come faccio a mettermi dritto Io sto benissimo così Sto proprio nel chill Guardami la mia posizione Prendimi il piedino Prendimi il piedino Mio Bravissimo Bravissimo Ora Ti porto No bro No Ci sei Ah ma basta facciamo così L e B per piegare le gambe Guarda Puoi fare i pooping Puoi fare i pooping È una cosa bellissima Arrivo 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 brother Ti do una ginocchiata Vedi No Ok Poldo è quell'arancione Sì io sono quell'arancione Scusatemi Effettivamente Non l'ho specificato Io sono Il gioco Non lo dice Sedi è quello bianco E non mi piacciono Nel video Prendimi la mano Anche il piede Eccomi Ti lancio sopra Vai 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 Sei troppo chiatto Oh Sto facendo una dieta Su Caldo Vai vai Tiramis Tiramis Eccoci Eccoci Grazie mille Panna cotta bro Grazie Questa cosa Oddio mi hai preso la mano Che carino Lasciami la mano È da È da amici Troppo stretti Da amici Troppo amici Allora io non ti sto tenendo Devi andare sopra Vai sopra E Lascia Guardami Mi sposto Dai forza Vai sopra Che io cado Scemo Unito Vai sopra Minchione Ci sto andando Ci sto andando Stai calmo Allora Allora ragazzi Questa è la missione No Sto cadendo bro Ok Ci sono Allora Ok Archerati di raga Ho messo la programmazione Su disco Cioè ovunque Su youtube Instagram In caso Ok Ci sono No amici Allora devo fare le fotocopie Che vuol dire Devi fare le fotocopie Non lo so Qua c'è una fotocopia La fotocopia Allora Arrivo da te Arrivo da te What L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto Zoom Cioè dovevamo fare solo sta cosa Ah no Ok bro Ci abbiamo messo tre quarti d'ora Per portare energia a una stazione spaziale I pannelli solari utilizzano l'unica fonte di energia disponibile nello spazio La luce solare Sì Del sole Scusatemi Grazie Ma è così Sono davvero un animatore dei catechismi Con l'equipaggio a bordo La manutenzione di questi sistemi di immagazzinamento della luce può continuare Wow Dovrei configurare i sistemi leggeri di cincierni e rientrare il pannello solare esterno Ok Certo Direi top Hai sentito bene perché non ho capito No Fotocopia Allora prendi quella fotocopia Prendi la fotocopia Ci penso io Prendo io Prendi Prendi la fotocopia Ce l'hai Manuale operativo Allora Luce Sole Ripristina Che palle sti giochi Fai avanti Fermo 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 Fammi leggere Fammi leggere Sfoglia la pagina Distendi il pannello solare piegato No ma tu stai capendo Allora Piano C'è il manuale del gaming Certo Allora È facile È facile È letteralmente la prima pagina Dobbiamo tirare per prima cosa la leva Poi dobbiamo spingere quei bottoni E poi per terzo dobbiamo collegare il cavo Molto semplice Certo Certo Ora questa cosa E poi per dispiegarlo bisogna fare la rotellina Esatto Per dispiegarlo dobbiamo andare in cima alla nave Per tirare quella rotellina Torna al punto di primo Dove dobbiamo andare Ah dobbiamo andare in quella stanza La vedi quella stanza Sì la stanza Bravissimo No mi È volato lo vado a prendere Vallo a prendere Vallo a prendere Vai 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 No dove è andato il mio foglio Eccolo l'ho preso Ce l'hai? Ce l'ho Allora Questo è Cosa serve questo? Niente Tieni Tieni Foglio La pagella Grazie No dammi la pagella La pagella La pagella Allora Questo è il posto Allora io tiro Io tiro questi E poi faccio Wow L'ho aperto Permesso No ho capito Una modalità di movimento Ah con x No fra mi fai vomitare Aiuto Aspetta lo sto riallineando Riallineoni Allora ragazzi Io sono quello arancione Quindi in questo momento Io mi sto lasciando andare Dalla corrente Allora Calcio in testa Allora Allora bro Tira la leva Tira la leva Cronk La leva La leva Eccomi Dobbiamo tirare la leva Premere i bottoni E attaccare la spina È un po' come giocare alla playstation Ma ci penso io Vabbè Senza accenna Tira la leva Tira la leva Tira la leva Cronk Quella leva Mi sono addormentato Dai forza Vabbè Levati Levati Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Posso la pagella Qua Stavo da bando Scemo di merda Scusa Mi tolgo Mi tolgo Mi sono messo davanti Ce la fai? Vai vai Ho capito Guardami Oh 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 Quello è il mio piede Ti togli da qua Ti togli da qua Mi levo Mi levo Ho premuto tutto Ti devi togliere dal cazzo Bro Levati dalla micchia Mi levo Mi levo Te lo giuro Aspetta Lasciami il piede Mi sto levando Mi sto Togliti da qua Cazzo Allora La mano destra Mano sinistra Levati da qua Voglio Mi sto levando Stai caldo Dammi la mano Eccomi Ecco la mano Eccomi la mano Ok Ora Vai giù Vattene via Grazie Lasciami la mano Lasciami la mano Lasciamela Ok Levati Radabro Ok Dobbiamo attaccare la spina Però io ce lo so Allora Dobbiamo Grazie la bella Dei sette mesi Grazie infine Guardami Sono una salsiccia Ok Aspetta che devo Prendere questa No La pagella Guardami 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 Sono già Non ci arrivo bro Non ci arrivo No Allora Sede ti sentiamo Troppo basso Perché È impossibile Sto parlando Ce l'ho No Non ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Non la lascerò mai più bro Vado a mettere Ce la puoi fare Infila L'ho messa Sì Che è difficile Che è difficile Questa cosa Sto gioco Ti fa venire l'ernia No 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 Devi prendere il manuale Prendi il manuale Allora La pagella E là E là La pagella La pagella Mi resta andando A rivederci La pagella Ho fatto Quello che dovevo fare Tornate È troppo confusionario Però Ok L'ho presa La rezzio Pera E l'ho presa Allora Come la faccio A usare La pagella Ma questo gioco È incredibile No Non riesco più a scendere Sto impazzendo Come hai fatto A lanciarla In questo modo Ho provato A fare il momentum Allora Aspetta Aspetta che lo prendo Non staccare la spina Non staccare Non staccare la spina È bellissimo Guardate il mondo Dai Non mi sto confondendo Troppo Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Dai Dai Vai 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 Sì ragazzi In realtà Tra poco esce Tra poco esce Che io sono L'impostore E comincia La partita Di Among Us Sì sì Dovete solo Aspettare un attimo Fra Aspetta Io solo Prendo No che palle Non ci arrivo Ok Però Perché al contrario Non riesco a nuotare No Non voglio prendere Quella pagella Allora Devi muoverti Pensa di essere Una salamata E che è finita Dove È finita Dove c'è il cavo Quindi non posso Prenderla Vado io Vado io Allora io tiro la leva Tiro la leva Come si apre il foglio Bro Questo non ne ho idea No L'ho persa L'ho persa Sto da bando Sto da bando Dai On the meters Eccomi Perfetto Ci sono Ci sono Ci sono Eccoli Ecco Ce l'ho Dobbiamo andare in cima Dobbiamo andare in cima Ah no Ma io sto tenendo La Dobbiamo andare in cima Bro Va in cima Vai in cima Devo tirar la leva Ma no Lascia la stare Non ti serve Ma no Devo tirare la leva Allora Ci sono Aspetta Ho finito Qua sotto Non so come Allora Allora Io sono quello bianco Ragazzi L'unico Niente Io sono Quello Madonna Ma il foglio Non vi serve Siete sicuri Ragazzi Ma se lo dicono Se lo dice la chat Se mi spingo così Funziona Vai vai Tengo le chiappe Ti tengo le chiappe Vai vai Vado a prendere la leva Vado a prendere la leva No No Fallo prima Fallo prima che ritorno là Non ce lo fa No No Ok ci sono Ci sono Perfetto Vai No aspetta Così mi tranci in due Ok Sono obbliguo No 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 Mamma mia Comunque Sto facendo una fatica immensa Fratello in Cristo Io mi sto cagando addosso Io mi sto cagando addosso E che i comandi Sono troppo difficile Ok vai Oramai più bro Ecco Torno là Oh ce l'ho fatta Codo 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 Perfetto L'ho presa Vieni 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 Sei una salamandra Ma perché Sto scosta E' la salamandra Non la capisco Aspetta Aspetta Ok ce l'ho Ce l'ho Questo è il modo peggiore Per tirare una leva No No Scusa 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 Mi fanno male i piedi Mi stai schiacciando i piedi Pro Ecco Ecco L'ho aperto L'ho aperto L'ho aperto Scusa Pensavo fosse La cosa del frigo Allora Ciao bro Tutto ok Ti fanno ancora male Eccoci Eccoci La macchina Ok fai una foto Allora Allora Forza apri la porta L'apro L'apro Guarda Ma quindi E' così Che si sentono Sì Madonna Cioè Gli astronauti Devono sentirsi davvero Particolarmente Difficile essere un astronauta Ecco perché Ok Ho aperto la porta Vai 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 Io arrivo Allora ragazzi Io sto Siummando nel 2023 No 2024 Ma Sì Infatti Palle Peggio Addirittura Tu sai che ho dovuto Rischivere Tipo due battute Nel video Perché dicevo Sì Immaginavo Lo sai Eccoci qua Perché ragazzi Dobbiamo andare tutto sopra Ci vogliono anche un mese Per scriverli Perciò Per questo Allora Hai rotto la leva bro C'è un co Hai rotto la leva Ma mi hai fatto il solletico Stupito idiota Hai rotto la leva Ora e ora Vabbè apri a mano Apri a mano bro Apro a mano Si può fare E tecnicamente Ok ci provo Non funziona No mi sa che serve La chiave per riparare Dove sta la chiave per riparare M***ione Hai rotto la porta Piano Non la puoi aprire Non la puoi aprire Non riesco Non ci riesco Il cacciavite Eh apri quella Apri quella Mi piacciono le palle 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 Aspetta che Ma piegare le gambe Cosa serve It's brave Perché se stai qua Guarda faccio Wow Apri la porta Apri la Mi devi lasciare la mano Lascia Ma sei tu che me la tieni Cretino Allora Ci siamo signori Ci sia Sei bravissimo Adesso andiamo Vai Prendila Prendila Vai Ok Fantastico Ragazzi Non ho fatto nessun danno Non rompete le palle No mi sa che qua Non c'entra nulla Vabbè Io ti chiudo dentro No 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 Non mi chiudere dentro No non ti chiudo Ciros Ciros Guarda guarda Sexy lady Allora Chi dei due È Samantha Cristiforetti Chi è Cristoforetti Cretino Non sai chi è Samantha Cristoforetti No non lo so L'italiano Nello spazio C'ha tipo 200.000 lauree Su dai Allora Dai bro Mi scappa la cacca No ti sto tenendo per l'ascella È tutta puzzolente Togli di Togli di Togli di Allora Allora Di là quindi non si va Apriamo di qua Porca puttana frate Mi sto tenendo la testa Mi dà fastidio Mi fa male Tipo C'ho l'erne al disco Queste robe Ti vengono quando ti sforzi Ma poi non capisco Quando voglio andare avanti Vado indietro Allora guardami 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 Cosa stai facendo Devi fare Guardami Guardami Go for the fish Cosa Go for the fish Guarda il fish funziona Come si ripara questa cosa Ma scusa Se ci rimetti la leva Che hai spaccato Eh se l'ha riusciata ritrovare Io l'ho perso E qua e qua E ragazzi Sono un pesce I am a fish I am a fucking fish Ah adesso vado di lato Quindi I am a crab I am a crab I am a crab My crab Ah sì vero Bro riesce a Minchia Ragazzi mi sta dando fastidio Mi dà fastidio Prendi quella leva Prendi la leva Prendi la leva Arrivo 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 Non ho parlato Che ero più Guarda la leva Fish Fish L'ho presa L'ho presa L'ho presa Eccola L'ho presa L'ho presa Allora mi tengo qua Mi tengo anche qua Questa mano La mano signori Ragazzi Mi raccomando Il crab Fate il crab Eccolo L'ho presa L'ho presa A godo Tieni la Ora No no Mettila qui Sei Gesù Cristo Mettila qui Mettila qui Sto mettendo Un attimo Lascio Questa mano Non funge E allora mi sa Che tocca Ripalarla bro Che palle Tocca ripalarla Allora Proviamo ad andare Qui sotto Magari c'è qualcosa Fish Fish Mi farà venire Il mal di testa Questo gioco Lo sai Allora Guarda cosa c'è qua Fish palù Guarda guarda Sta arrivando bro No Non vi vera Spacco il cranio Allora Ho aperto la porta C'è altro Ho visto un'altra cosa Guarda Prendilo Prendilo Bravissimo L'ho preso Che bravo Cos'è questo? Quello non lo so No è una valigia No la mia cacca Ma che come cazzo cagli Vai apri Forza quella porta Cronk La forza Aia No No Hai fatto L'effetto Con la voce Del lego Stupido Apri quella porta Hai fatto No Allora Eccoli Allora La 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 Devi infilarlo là dentro Come faccio a infilarlo là dentro Cronk Infilarlo là dentro Allora Sì ma Bravo Vedi Vedi che si sta aprendo Si sta aprendo Si sta aprendo Dai Engineering Ma noi dovremmo essere laureati Per fare gli astronauti Sì è che Eccomi Eccola Vai vai Infilarlo Bravissimo Vai Ti do una mano Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E ora Nostra Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Lo faccio Passare Spingiti sopra Spingiti sopra Tipo Col braccio destro Spingi di sopra Bravissimo Ho passato Ho passato Destra Sinistra Bravo Secca Seca Bravo Che stai dicendo Ma che sta dicendo Non sto grattugiando il muro Vai 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 Sedia Spacca la porta Allora adesso dobbiamo fare il piede di porcos Allora faccio così Ce l'ho fatta Doppio piede di porco bro Vedi Che schifo Ti ho preso i peli Che schifo Puzzano un pochino Oh L'ho lasciata andare Esattamente come i miei sogni Come si apre il manuale operativo Così Wow Esatto Esatto Adesso dobbiamo girare La lavatrice Arrivo Dobbiamo girare questa I'm a fish I'm a fish Non mi devi spingere di sotto È che io non riesco a girarmi Ok devo tirare questa leva Giusto? Bravo Tira la Tira la No 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 Allora Ti stai tenendo bro Ti stai tenendo Sì mi sto tenendo Mi sto tenendo Allora Tecnicamente No Se io lascio No 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 Sono morto È stato terribile Frate Mi sono salito Ti ho spazio Mi hai proprio scasciato nello spazio Ma poi tu non ti stavi tenendo Allora Ti devi attaccare il moschettone Lo so Come il moschettone Lo vedi Sta vicino a te Ma non mi piacciono Vado io Vado io Vado io Guarda Allora Ce la puoi fare Allora Attaccalo Ok Ok Tu Eh Sì Eh non lo so bro Eh mi tengo Devi buttarmi fuori Sì esatto Ah no Aspetta Puoi farlo da solo Guarda Perché io Guarda Fai così Chiudimi fuori Perché così Sì è la cosa meno sicura È la cosa più sicura Sì ho capito Mi si è sconnesso il controller Porca puttana Ecco Non mi va il controller Dai 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 Ok ok ci sono ci sono Allora aspetta 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 Ma perché devi andare di là Mi sono tolto Vai vai Allora io adesso No mi devi chiudere fuori Avevo appena finito di dire che oggi è una giornata di merda Blue screen e pc che esplode Va bene Guarda ti sto facendo Marameo Sto scherzando Sto scherzando No no bro No 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 Adesso la cam stra arancione Che succede? Ecco bravi ragazzi Avete perso numeri Ammetto non mi piace Non si può ammettere Non mi piace una live Super Mario ma tu non hai la sub E' una feature proprio di windows 11 L'hanno messo come La bomba rologgeria Volete fare qualcosa oggi? Blue screen of death Ti ho invitato bro Perfetto arrivo Arrivo gamer Perché però Perché mi dice che sono collegato con due controller Dio madonna Cominciamo anche con questa storia Dio santo Ah ma ti non mi piace al video di youtube Va bene Ha senso Ha senso Ci sta Marameo mi fa ridere più del dovuto Non dovrebbe E' davvero una cosa molto infantile Marameo Ok No aspetta Mi si è No aspetta Ti butto fuori E riavvio il gioco Che mi si è collegato Il controller sbagliato Certo certo Ah e quanti controller hai scusami Due Non lo so Si è Poldo legge un po' la chat Ma sto sistemando Il computer Ragazzi Ragazzi Non fate i baboon Vi racconto una barzelletta adesso Un cavallo Entra in un bar Il barista gli fa Che è quel muso lungo Porca troia Mi ha fatto pure ridere Bastardo Come ti ha fatto ridere Come ti ha fatto ridere Ma come ti ha fatto ridere Mi dicevo che sono collegato Con il secondo controller Però vabbè Eccoci Eccoci Signori Eccoci Eccoci Stiamo per rifare il gaming Preparatevi Ti dovrebbe aver Ci sono Ci sono Il problema è che Dobbiamo ripartire dal capo Va bene Speedrun si chiama Aspetta Speedrun Aspetta un attimo Aspetta un attimo Devo risistema la finestra Delle mie palle Eh sorry Adesso si deve ripartire da capo È una questione di focus Sì non so perché sono così arancio oggi Aranciono Ah vedi è andato tutto bene Godo Ok perfetto Ci siamo Classica Signori It's speedrun time Ci sono Ok pronto Vai inizio Pipi 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 Skipi di toilet Ciao pomar Grazie Basta Non devo dire più Skipi di toilet Santa miseria Non ce la faccio più È una piaga Non ce la faccio più Ci diamo la mano Manina That's very cute And very gay Allora tira la leva corrata Grappate la manilia la maniglia vai 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 rollevo pesce 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 un pesce alla volta bro ok ci siamo su mete ok tira così vai così no mi tieni il piede non ce la faccio a passare eccomi eccomi madonna questa parte prima ci abbiamo messo il ma donna fra guarda guarda siamo dei gamers ok ok lascia mi devi lasciare mi sta vedendo le mie mani sono un po sporcaccione allora facciamo così eccoci qua ok ok devi premere la stampante di da il campo di bordo tutto aspetta aspera stampante pesce pesce eccomi perfetto stamponi ma ti può cambiare gioco ma i ragazzi faccio live monotematiche su un gioco ma è dal 2018 che fai live su un gioco solo alla volta e adesso cambiamo gioco è bellissimo questo gioco sarà oggi sono salti ragazzi non mi dovete dire male se non ti dico bellissimo questo diranno della cifra minero del culo per sto blue screen vai allora mai giocato la pagella la pagella l'ho presa c'era fantastico vabbè lo sappiamo abbiamo messi questo non c'è bisogno perfetto pagella andata signori fine a ma io sono quello bianco che stupido è infatti non avevo capito perché dicevi l'ho quasi presa però ha detto vabbè sarà convinto non ho detto niente perché stupido vai avanti stavi tutto convinto mi lasciare di sedi ti dà un consiglio mi è giocato a gang beast no mai ci abbiamo giocato in live insieme trovate il video sul canale di gaming di poldo tra l'altro se non avete ancora lasciato mi piace a questo video e il commentato con scritto bababubu cacca ok che è mal grazie fatelo perché è una cosa importante è un porta è importante è importante la tira di aspetto non solo arrivarci devo solo arrivarci ci sono ce la puoi fare c'è scritto power non ci arrivo ecco ti ho spinto papà cacca pv kendall rata vai fallo non l'hai fatto ma ti ho fatto io non ci sta arrivando dove ti hanno dato la laurea porca miseria eccoci god fantastico casto tasto grazie william per i 100 bit brother fai a premere i tasti e ottimo quello mi stai tenendo il piedino se mi premi il piedino non tengo più i tuoi piedini lo sai che mi dà il fastidio lo premo con la testa ho fatto questo è il mio streamer preferito solo attacca la sfida hai messo abbastanza aspetta aspetta che piedi ecco che servono i piedi fare così o ci sono ci sono bravissimo vai aia mi sono tirato abbiamo fatto lo schiaffo perché volevo darmi il buon arroti allora eccoci piedino non toccate i piedini ragazzi è disgustoso allora sentire mi è venuto male al cringe è quello che volevamo fare dicendolo aveva pensato di quell'intento dai bro ma perché non riesco a fare fish e guarda bro ce l'ho fatta no l'ho chiusa di nuovo ho la leva sulla sulla fronte sono andato del disco mi arrivederci mio caro uomo che cari ricordo no lasciami la mano che cosa ha visto che cos'è non lo so non serve niente ha fatto la foto apri la porta apri la porta vai non fare le foto apri la porta apri la porta va bene va bene stai calmo mi raccomando non togliere la leva non la rompere che se non abbiamo sei anni vai vai quando tu muori nello spazio gli alieni gamer dai mannaggia alle palle di paolo allora eccomi si è vero palmucci da ora in poi è il nuovo mod che si mette a riscontrare i messaggi eccomi 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 signori james potter e allora le campani ci siamo little company allora adesso non la rompo te lo prometto vai mamma mia ragazzi non ci posso credere non fa niente non fa niente allora vado di testa ma io vado di qua vado di qua e l'apro l'apro che c'è ti rendi conto che sceghi come diminutivo di scubbidu lo chiama scubb e quindi non lo so che sono qua ma tu non stai facendo niente comunque per la causa ma incredibile ragazzi non è di questa live ringraziate sono piuttosto sono un pesce ho chiuso di nuovo la porta ci non è di questa live allora io vado vado a prendere il cacciavite io mi faccio i cacciavite non piede di port le palle di paolo no broma donna madonna bro mi dà troppo fastidio e questa è la modalità ma cacca 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 ma che stai facendo mi spaventano di potere queste porcherie guarda e l ciao chat guardatemi 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 dove nel piede di porco però ecco allora te lo lancio insieme alla mia valigia piena di allora senti io dovevo portare la mia cacca in qualche modo l'ho dovuto fare in questo modo perché è capito e così adesso tu la apri e fai tipo sorpresa surprise che scemo lo prendono che schifo che schifo l'aperta nuoto con un piede di io sono un albero tira me lo tira me lo tira me lo tira me lo ci ventano attento lo tiro mai madonna bro che lancio perfetto gli è dato una fedata l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso il braccio lasciami 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 lascia ok se non arriva madonna io come vorrei questo tipo di sensazione non hai idea quanto io brami la sensazione di mamma in acqua divo no ma non è la stessa cosa l'acqua è viscida ok perfetto perfetto ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho e adesso ragazzi gaming crowbar minchia crowbar vero eccola 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 non funziona un attimo un attimo brava calo la meglio grazie la valigia pietra di calda inserirla meglio ci provo ci provo ok non è facile come sembra io ho una laurea solo per questo poi vi chiedete che cosa servono le lauree agli astronauss eccola bravo ok allora io ti consiglio di cambiare mano posizione o altro dai zitto c'è la prova a lasciare il piede di porco e prenderò da un altro punto va bene ah perché c'è la legge di news newton la legge di news chi è il tuo amico newton quella che se applichi una forza bravo bravo bravaria ottieni la pasta all'albicocca allora vai lasciami i piedi santo dio lo sai che mi sconcentri le levate i calci eccola 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 si la legge di poca dongs ok ci siamo mai comunque ai sta guardando solo perché studia ingegneria aero spaziale veramente che ci sono ci sono eccola lo saprà allora la legge di news gamers serie a poldo come no non chiedo niente no mi hai sconcentrato arrivere ci vediamo alla che no mi dispiace non vengo a luca comics con te e oramai io non ho più parole ti sei rovesciato eccoci 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 allora aspetta che arrivo perché non mi si apre come l'altra volta mannaggia le paperelle allora vai usalo ma come hai fatto guardalo guardalo il pesce allora stai qua stai qua che ti chiudo fuori arrivo arrivo un attimo adesso è il mio turno è il tuo turno non far crashare il computer un'altra volta ti rompo la faccia allora eccoci 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 arrivo vabbè tu vai non ti preoccupa chiudi io sto arrivando arrivo lentamente ha usato la legge di poca dongs mantaccia alle palle di paolo cos'era quella leva che mi è uscita a me non mi fa non mi fa porca puttana bro levati da qua e va bene esci da qua mi sta infastidendo mi sta infastidendo va bene va bene sto uscendo sto uscendo stai calmo c'ho la gruba ok ok sono uscito mi sto tenendo sono uscito e mi sto tenendo sono uscito e mi sto questo è il modo più o si è chiusa a godo perfetto donna ora brother io vado a mettere il moschettone vai moschetta di moschettato non sono moschettato bro ok allora adesso il tutto il mondo è nelle tue mani brothers vai fai attenzione fai attenzionissima non ti lasciar trasportare fai attenzione è il momento cruciale che cosa è successo prima perché esplodesse tutto perché c'era la porta aperta bro benvenuto nel mondo degli airlock ha senso scuso se l'ho detto in modo così saccente non ero ecco perché perché io c'ho l'ossigeno di qua chiaro chiaro vabbè allora potevo usci pure io vai no non mi fatto vai fish go for the fish perfetto aggrappati al lato astronauta astronauta come 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 nelle esercitazioni brother allora non abbiamo fatto nessuna esercitazione bro fai finta che l'abbiamo fatta quando eravamo all'università quella di come si chiama quella della quella città dell'abruzzo l'aquila no pescara vai sto andando tutto tipo a ruota adesso devi sta allora ascolta a me mi raccomando è una persona no 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 stai 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 una mano una mano sempre tirata una mano sempre tirata ascolta me vai quella cosa rossa e devi fare giro giro tondo come alle scuole giro giro tondo prendila prendila ok ce l'hai senso 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 della freccia allora ti facilito giro giro tondo ok dai ok bravo bravo stendi la 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 vai vai ok vai la freccia la freccia la freccia mi raccomando ok ma donna game of the year ok bravo bravissimo adesso dovremmo star prendendo l'energia solare grazie teoricamente adesso teoricamente adesso possiamo guardare i programmi della tv italiana beat grazie di cuore bello ok ok verrà portare contro la missione ok dobbiamo aggiornare il controllo missione bro pocket sand grazie mille wolf per i cinque mesi veramente allora bro io adesso devo tornare a come fare tieniti alla porta tieniti alla porta ok ce la puoi fare brother torna dentro esattamente esattamente come avevamo provato l'altra sera con i bastoncini di pesce bravo allora che vuol direi quando abbiamo giocato con i bastoncini di pesce bravo bravo chiudila non ti chiudere fuori per piacere staccalo stacca il buco stacca il coso staccalo chiudersi fuori penso sia se penso sia il modo migliore non è per concludere la serata diciamo che non è esatto i fantastici programmi della tv italiana ragazzi come il collegio ok ci sei tira la leva tira la leva tira la bro più facile a dirsi ok andiamo aumentando e si stavo facendo un apps allora bro ti volevo dire innanzitutto che sei stato bravissimo ok ho aperto il porte e tu stai facendo un app no porca troia mi confondo maps io mi giro dobbiamo andare tutto dritto tutto dritto sì 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 no a bapordo si dice non dobbiamo andare a bapordo fra mi sta avvenendo lernia porco due che non gira ma perché ti dovrebbe venire perché sto tutto stressato allora bro ti devi prendere e lanciare cosa non sai di più di questo prenditi e lanciati prenditi e lanciati prenditi e lanciati prenditi e lanciati aia mi sono fatto male alla testa baffan palle tutti 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 bene tutto bene tu non puoi passare dai fammi passare bro me ne voglio andare a casa ci siamo voglio prendere l'ultimo treno che poi non si torna più a casa a catania di certo no vai 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 dritto dobbiamo stai calmo stai calmo allora senti bro fermati un attimo no 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 levati tu dalle palle voglio fare rapporto e mi sei caro dello spazio solo perché noto io do io rapporto così sembra che ce l'ho fatto tutto ho fatto tutto io lasciami stare il braccio lasciami stare il braccio lasciami stare grazie madonna smettila eccoti vai tira ma this is this is ok prendi ma non devo fare rapporto alla radio fai pronto no bro non lo voglio proprio difficile lo fai tu aspetta ce la faccio ce la faccio no ok this is rapporto fatto mamma mia ragazzi ci abbiamo messo 16 minuti a fare la prima 16 minuti con tanto di crash quindi aggiungici un bel 45 minuti allora abilità gli aiuti visivi per l'input manuale nella sezione comandi no chi se ne fotte vai seconda missione bro oggi lo finiamo minchia veramente molto almeno almeno un'altra missione la voglio fare sì sì no ma la facciamo allora poi 20 euro per elaborare i dati fornire il segnale sì certo avete iniziato a giocare a 20 e 40 sì effettivamente a meno di un'ora aspetta che è successo non ho capito facciamo il cacco va bene va bene chiediamo il cacco il cacco carlo 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 cacco eccolo eccoci eccoci signor vai vai esce il foglietto signore e signori benvenuti nella stazione spaziale le fatto entrare posso chiamarla le mie palle non mi piace senti oggi dovrai riferirvi alla stazione spaziale con la stazione spaziale le mie palle ragazzi ci troviamo nelle mie palle e prendi il foglio bravissimo allora manuolo operativo pagina 1 io sono un sacco di tazza un sacco di cose ma è pagina 1 ma non serve andare a pagina 1 sulle pagine di prima scemo ok connetti l'altra liberare l'antenna la rata ok siamo degli astronauti abbiamo 250.000 lauree per favore almeno leggi bene allora connetti la torre dati alla rete calibra l'antenna 1 calibra l'antenna 2 calibra l'antenna 3 ok ci siamo poi allora metti il cavo blu nel coso blu metti il cavo rosso nel coso e poi ci siamo vai avanti cosa cosa allora è cavo blu nel cavo blu cosa rosso nel coso rosso e poi ci sono di no fra io mi perdo a ragazzi io non volevo farlo l'astronauta o bello c'è più le fotine allora torni indietro fammi e fammi vedere che se l'istrazione la mi vede la seconda perché come vedi c'è vedi che c'è 1 2 e 3 quelle sono le cose da calibrare per calibrare dobbiamo collegare il blu col blu e il rosso e il rosso con rosso molto semplicemente vedi claro in modo tale che alla fine si collega come tutto a destra e per calibrarlo ah vabbè dobbiamo far diventare il coso dritto è una cosa terribile che ho detto proviamoci io non è che ho capito troppo vabbè male che va buttiamoci fuori dal coso allora innanzitutto grazie mille stupidude dei 17 mesi ragazzi mancano 5 sub vai 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 scusami io mi confondo perché little company no godo c'è questo questo secondo me ti fa andare proprio in alto non posso usarlo no mi sa che non si poteva usare nelle esercitazioni ma no io devo provarlo suona nella stazione abita non si sente la forza di chività messa leggermente meno forte l'effetto di fluttazione da alcuni effetti legati alle forze apparenti allora questo è il cavo russo il cavo russo deve andare nel coso russo guarda 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 allora io mi tengo ecco grazie a dio bravo lo prendo sì con l'altra mano vai allora questa è la destra quindi questa posso toglierla eccolo 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 ora collega il cavo rosso che è il cavolo dell'elettricità piega le gambe dai 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 ce l'ho ce l'ho sono un pesce ai ma fa che un pesce ce lo puoi fare ce lo so lo so bene dai cazzarola questa che è un berettato prendi meglio la presa devi prenderla dritto e poi vai dentro e basta cristo dio allora eccolo 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 l'ho presa meglio l'ho presa meglio adesso si sposto ecco così mettere un po più a destra la mano sinistra ci sto provando ci sto provando ok adesso lavoro sinistra le mie danna di questa stazione spaziale le mie valle è davvero ho fatto a godo ok ora dobbiamo prendere questo coso e calibrarlo ce ne vedi questo o l'ho fatto le calibrata subito ma come fa c'è ora questo coso lo dobbiamo portare sopra bro ma dai sì allora mano destra perfetto perfetto ci siamo uno così e poi faccio un po così e poi facciamo allora signori riferite mi riferitevi al a me come il comandante delle mie palle ok sono io sono io il comandante ma perché si stacca è perché non ha giusto 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 è giusto sì sì dobbiamo portarlo al prossimo a ok collegare il cavo blu capito collegare il capo perché questo è questo blu è il calibratore è il calibratore perfetto luca laurenti allora io sono paolo bonolis tu sei luca laurenti dai fai un verso strano con la bocca allora 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 mano si presa me lo tiri e come faccio bro non lo so che ne so io spingi no dai ci sono ci sono vai e rengri grazie mille della sub bro benvenuto tra l'altro grazie mille brothers allora allora lascialo lascialo lo lascio sta fuori che vuol dire no 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 dobbiamo ancora calibrarlo bro che fatica tranquillo prima fare l'astronauta è una fatica grazie mille bro per la sub allora io sei sicuro che non devo uscire con questo cazzo forse ok si deve uscire mi sa devi togliere il moschettone giallo bro il moschettone giallo ma è una cosa tremenda ero si rimangono lo spazio aperto fra devi tornare dentro da oggi chiamami alberto alberto angelo allora eccoci mi tengo con l'altra mano moschettone moschettone verso tolto ora wow bro però è troppo togliere moschettone l'ho tolto e ora tranquillo lascialo la e ora lo spingo sto spingendo sto spingendo no 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 c'è la manopola c'è la manopola per spingere tu portami sopra quel coso ok 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 ci sono ci sono una proposta qua basta che sbagli un attimo è fatta è fatta è fatta si vieni a fare twist con tutto il corpo insieme a noi ci siamo no ops ops dall'altro lato spingi 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 dall'altro lato spingi la spingi la mannaggia ecco bravo bravissimo bravo bravissimo a te fortuna allora la mano destra è questa quindi la mano sinistra è questa ok per non voglio non voglio cadere non voglio cadere non voglio cadere non voglio cadere nel baratro no bro aspetti vengo a prendere no ce la faccio da solo ce la fai tu pensa a quello io chiudo anche il portello guarda sono il dio proprio sono fuori non me lo dire non lo dire non devi dire queste cose davvero poco carine nei miei confronti pesce dai rientri rientra ce l'ho pesce ok porta questo cosa sopra possiamo girare le palle è una sfida a coppie si io sono quella arancione serie quello bianco molto semplice io si smettila di cantare link in park si ok ci siamo we got em boys we oh ma perché qua si esce allora bro 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 calibrazione delle mie palle si infatti allora arrivo numero uno allora questo va giù ecco qua qua mi piace prendo il cavo blu non andare via cavo blu non andare no perché hai ruotato improvvisamente scusa mi devi avvisare mi dispiace eccolo guarda io ho collegato tutto ora dobbiamo girare cosa la dobbiamo no la devo tirare da fuori no non è vero fra come è possibile non puoi tirare fra tu voli nello spazio non mi prego da ora non è buona fortuna però buona fortuna però secondo il pericoloso lo so che è pericoloso ed è per questo che si deve andare un professionista con due lauree in pro se voli nello spazio mario palladino allora eccoci 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 allora c'è il moschettone lungo giallo no ma non è quello sì sì è quello è quello perfetto ho aperto mi tengo eh mi tengo no brodi si è incastrato la mano non ti stavi tenendo allora devo arrivare al moschettone dovete staccare il moschettone attaccarvelo lo so mano sinistra quello lo vedi e te lo devi attaccare addosso immagino di sì e se lo facessi a mano allora nel caso nel caso dovessi perdermi nello spazio profondo l'unico mio desiderio è salutami mara maionchi ti sei chiuso la testa sono una nocella allora eccomi eccomi cosa pericolosa che hai fatto lo so perché io vivo la vita a un quarto di palle alla volta ok eccolo qua il moschettone mano destra l'ho preso fico devi attaccartelo lo so sarebbe molto più facile eccolo preso vai mettitelo vicino alla cintura e premio ci provo vai c'è cavo rosso devi collegare va bene ma faccio tutto va bene si collega quello poi cavolo se quello e poi stacchi il moschettone ma mi sento così bene anche a set a set a set a set a set a set via la persona meno affidabile per una cosa del genere perché farlo lui è il più grande allora ci sono no fra allora pesce che stai facendo lo mi sto cercando di muovere è più complicato di quello che si pensa ok no no mara maionchi volevo dire un sistema tira visuale bro fakes come joseph eccomi sono andrea di andrea forza cantami una canzone alla de andrea mentre mentre sono abba stacca quello intanto e la chiamavano bocca di rosa ammetteva l'amore sopra ogni cosa la chiamavano bocca di rosa ammetteva l'amore raddrizzi l'antenna è una cosa sessuale quella che sta di andrea e che me ne fotte a me che l'ha detto allora non è che se lo dice de andrea resta meno sessuale la cosa allora vai 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 ed arrivarono due gendarmi con i penacchi bravo con i pennacchi ed arrivarono due gendarmi con i pennacchi e con le spenna professione bocca di pennacchi nell'uno nell'altro guardami le mani dai forza minchione sistema quell'antenna muoviti muoviti no bro dovevo togliere il moschettone dopo cosa faccio ok devo salvarti ci penso io devo fare allora bro aspetta tu stai la stessa era tranquillo faccio te lo so lo so intanto attacco le palle di questo ok puoi poi spostarmi più ci penso io però guarda ok tirami tirami su tirami su no non di là non di là che bravo bravo di qua vai vai io ti lancio vai vai eccolo no bro no bro no 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 aspetta devo fare fish devo fare fish ok aggrappati 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 ci sono ci sono ci sono sistema della visuale e prendi la questa le mie palle di questo gerusalemme eccolo eccolo minchia che fatica a fare l'astronauts dovevo fare quello che mi ha detto mia madre allora pc t fra lo so è che non ho il tuo collega nel bel mezzo del voto cosmico lo faccio iniziare bvc eccomi funky staioma pre vendo tutti i tasti di scopre me allora lasciala e vai dall'altro lato ma no a giusto genio esatto va ci sotto e poi la spingi con la testa ok lasciala lasciala aggrappa di a qualcosa e poi tirati che madonna quanto è difficile non a te stesso attaccati attaccati mi stavo per cammini eccoli si un ma l'abbiamo attacca e attacca la cristo di ora va calibrata bro ma come va calibrata devi girarla verso destra o verso sinistra non lo so vedi girano un po vedi dove dice che è calibrata in basso in basso no si stai schiacciando la testa a ok dobbiamo vedere eccola 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 che così giusto si bravo sono un genio bravissima di bravissimo bravissimo ora ora prima di staccarti ma a collegare il cavo rosso la sopra certo papa papa no ecco l'hai spostata no ma non sa non significa basta che l'abbiamo calibrata nel ok perfetto ora attacchiamo le mie palle qua ora ti faccio partire la torre aspetta però che io faccia questa cosa perché già è complicato così come non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo no mi hai sballato le palle mannaggia a te guarda primi x ma come primi x cosa per sistemarti la visuale sono tutto d'un pezzo mannaggia guarda io per tenere in mano questa cosa ma io non vedo se tu vai troppo sotto bro dai vieni su arriva 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 ok ci sono oh cazzo no ma tieniti a una cosa normale no ok ma mi sto tenendo ce la possiamo fare chat state calmi vai sopra vai sopra e collega quell'antenna quella quella dell'antenna sono in un momento di stallo dai fish fish 1 2 3 vai ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok oh oh che sta succedendo sono tutto pazzo no ok no mi sta bene mi sta bene guarda guarda no ce l'hai il contrario bravo bravo potato no 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 la gira lascia di sganciati e vieni come sganciati no e devi venire da me poi di sganci il moschettone è un fish fish vai fish vai vieni qua no non ti chiudo il portello nei piedi allora vieni qua e poi una volta che sei entrato ti sganci quel mollettone di merda eccomi sono qua bravo ecco mollettone l'hai chiamato moschettone scusa non il moschettone eccomi sto entrando nel modo più strano possibile togli il moschettone che se no non entri no 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 io entro prima e poi mi no 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 non va bene per la lunghezza del cavo bro togli di quel moschettone ciao shot dai allora ecco toglilo ma non me lo prende ma non è già il crappers questa è tutta opera di plankton entro ho detto dentro sono dentro sono fuori bellissimo ok signori ce l'abbiamo fatta questa è la seconda ok ok su quattro bro ora tu porta porta sto coso sopra oh dio santo un attimo che devo uscire fuori un attimo a fumare la sigaretta no no niente pausa sigaretta bro ok ok ci sono che cazzo fish fish go for the fish no quello si cosa ah ma tu l'hai tolto perché giustamente non serve più si il cavo esatto cioè in realtà l'ho fatto per sbaglio però bro vuoi venire qua eh aspetta 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 fish fish mi sto lasciando andare dalla corrente ok ci sono ora perché le mie mani fanno fammi attaccare questo via gluck via gluck no 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 pro no pro allora piano 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 ho preso il cavo mamma mia L'ho visto ed è stato bellissimo Nel momento di prova Ho preso il cavo e l'ho attaccato Porca puttana È un ployote No ho staccato il cavo Tranquillo è giusto Devi portarlo sopra Devi portarlo sopra Ok Ma devo tirare indietro l'altro cosa? No 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 Tranquillo tranquillo Allora se tiri quello Teoricamente si gira dall'altro lato la cosa Girala dall'altro lato bravo Il cavo di corrente non è collegato Devo andare a vedere Se è stato scazzato Ah è quello che ho staccato io per sbaglio Bro Attaccalo Ah no è là Porco dici Dov'è? Belli Ah eccolo bravo bravo Devi collegare quello Devi collegare quello Ci sono ci sono ci sono Hai imparato No ragazzi ho fatto Ho fatto il Ho fatto il progaming Ma che bello Ha fatto il progamer move Ma che spalle ha dal ruotatore Che nuota in mare Sono un fisher Un fisherman Sono un fisher Terribile Spaceman Fisher che vuol dire E' quello che fa fishing Oh Come hai fatto Non lo so ma funziona Scusa bro Non lo farò mai più con questo tono Ora adesso io vado a sistemare questo qua Io porto su sto cazzo Eccolo 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 E guarda quella santa miseria Guardalo 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 E che cacca Caccato Non voglio staccare il cavo Non voglio No 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 Fish Go for the fish I go for the fish Fisher Fisher nella vita Si fiscia Ok Fallo Non mettere la testa Come ho fatto io in mezzo Ok Ora devo portare questo su Guarda 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 Ci siamo Ci siamo Stai calmo Si è scollegato un cavo però Ah no 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 È normale È normale Ok Ora dobbiamo collegare il cavo blu Al coso blu Le mie palle Ragazzi nel dubbio Nella vita Quando siete in pericolo Fate fish Si esatto Quando c'è qualcosa che non va Andate in fish mode Ok Scusa bro mi tolgo Non cadere Non cadere Ma mi hai spinto via Io non ho fatto nulla Scusa ma dove devo collegarlo sto cavo No bro ho collegato Il cavo a se stesso Guardala Guardala Ho sbagliato cavo No No ma sei proprio Un ricogliorito Dai 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 Aspetta togli sto coso Ok Io sono aggrappato Ce la possiamo fare Ora questo va attaccato Qua Credo No Sì esatto ragazzi Anche nelle interrogazioni va bene Nel caso di the fish Nel caso cominciate a fare il pesce Ora Perfetto Ora quel cavo rosso va nel cavo rosso Esatto Ok Vai Infilalo dentro Mettilo dentro Ok Allora Ora Questo blu No No Ci sei? Guarda come sono messo io Praise the sun Allora ok ci siamo Siete degli incorreggibili Ciao spider head 404 Poi do la tua stessa fama sono un fallito Buonasera Grazie a sintonia Oh l'ha fatto da solo Quello sardegno No dobbiamo girarlo a mano Vado io bro Ci penso io Fra Mi raccomando Dimmi Ma in che modo dobbiamo girarlo a mano scusami non la sanso Perché dovremmo girarlo a mano? Non lo so No 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 Non dobbiamo girarlo a mano Stai calmo Stai fermo Stai fermo Dove stai andando Torna indietro Non dobbiamo girarlo a mano Eh no Perché se lo giri Poi si stacca Fra per piacere Fra Ma tanto l'avevo già Ma non si muove vedi Ma non ha senso sta cosa Oh Che hai fatto? L'hai premuto L'ho premuto non lo so Prova Prova di nuovo Ciò puoi fare Ah si preme Non si preme Prima la voce L'ho premuto però Non capisco Forse dobbiamo Ah forse dobbiamo spostare Tutta la baracca Dobbiamo premere giallo No 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 Bro Mi fai paura ok Ok Vai al giallo Per favore No lo devo estrarre No lo devo estrarre Ecco cosa devo fare No non ci credo Bro 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 No qua Qua te ne vai via Qua te ne vai Questa è la volta definitiva Che me ne vado No 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 Non mi far diventare Orfano Allora se riesco a prenderlo Capito perché sei il mio padre Guarda Eh Ora se io faccio così Eh io c'ho paura C'ho paura Guarda Com'è ora No bro Io ho capito Dobbiamo trovare la frequenza In base alla lunghezza Ma stai scherzando? Eh si Aspetta Devo provare a fare una cosa Dai No Di qua voglio Ma perché non si gira Dall'altro lato Come dall'altra volta L'altra volta Scusami Ce l'ho fatta Non ci credo Madonna Sono il pro Teniti Teniti Mi sto tenendo Mi sto tenendo Mi sto tenendo Sono tenuto Premi tutti i tasti Ok Piano 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 Ok Si è staccato il cavo però Devo attaccare questi qua Ah si Lo passi? Eh no Ok lo pensi Sì Mi dispiace Mi dispiace No We can do it Ragazzi Siummico Davvero Siummico Non ho moccato ragazzi Era una battuta Su calmatevi Mi piace No Bro Bro Cos'hai attivato Hai attivato L'altra Hai attivato La leva Tira la leva Ok 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 No Bro così mi schiacci Vai ti spingo io La leva Ok Non la tocco Allora Bravo Ci siamo Bravo 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 Lasci fuori Si fuori Si fuori Mi fa male Mi fa male La tiro la tiro La tiro la tiro La tiro Se calmo Se calmo Se calmo Eccolo Ecolo Ecolo Lo attirato Lo attirando La testa Tirando La storia Ci sto provando Davvero Tutte le mie porte Eccolo Eccolo Ecolo Ecolo Tutto ok bro Fra 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 tutto ok Fra tutto posto Stai facendo un naps No bro scusa Mi fa male la testa Vai Allora eccolo eccolo Tutto dovevi fare Tranne che schiacciarmi la testa E' morto Penso sia un pizzicotto nulla di più Certo che di questi tempi la laura Scusatemi ragazzi La sabba water dash Ti devo fare male Water dash Ok Ok Fantastico Ora perché c'è sto moschettone qua Non lo so non lo voglio sapere No Io ho capito perché bro No dobbiamo spingere il cazzo Attaccati alla minchia Attaccati alla minchia Non era quello che volevo dire Aspetta Ci sei tu in mezzo ai piedi Scusate Io salgo Salgo con te Vai vai sali con me Sali con me Cioè sali prima tu però Dio santo Un po' così Ah io però non posso muovermi Non so perché Perché si è attaccato alla presa Dove sono? Non so dove sono In the jungle The night in jungle Lion Lion Sleeps Ryan Lion Sleeps Guarda il cavo blu Che condizione Aspetta che devo prendere il coso Fermo Ok vai Tranquillo Sto qua Minchioide Non ci sei un minchioide Non mi chiamare minchioide Lo sai che è veramente offensivo Puoi farcela Ce l'ho Ora Ora Lion VGF Esattamente lui Ora fammi raddrizzare Ok Il caporosso dove va? Ah no va su Aspetta aspetta Va bene va bene Razza di scalmanato Che non sei altro Frate Guarda cosa mi devi far fare Sei un Sei un Coglionetto Sei un burattino Sei un Coglione Eh no Perché mi devi dire così Veramente un professional Da parte tua Vai Tiralo dentro Vai Ancora non basta bro Fatevi Fatevi Aspetta ancora no Ancora no Stai fermo Sei tu quello con il lavoro difficile Io ho capito come devo fare Hai capito che devi fare? Eh si eh No 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 Vai 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 Spingi Ti spingo Giuro Spingiti con le piedi Spingiti con Mi spingio con le piede Spingi Vai Ti sto spingendo Vai Guarda Lasciati Non mi fa andare Ah vuol dire che al massimo Bro è il massimo Ok ora attacca il cazzo al buco Che schifo Che schifo Ti chiedo scusa Ti chiedo scusa Sono proprio volgare Volgare Terribile Ok Metti la spina nel buco Ok a posto Ora io salgo Spina in the books Mess Ora Io salgo sto salendo Dove ho attaccato Stai attenzione se sei bucato Stai attenzione se sei bucato Stai attenzione Aggrappati Ok ok Vado fuori a fare i lavori di manutenzione Manutenzione Allora sappi questo che c'è bisogno del cavo Quindi attaccati il cavo al pipo Vai Aspetta bro Non riesco ad aprire Non riesco ad aprire Il portone Sedi io domani faccio la ricarica di google play Oh fai la sub God Con google play Sì Si possono prendere i cosi con google play Come faccio uscire Ah guarda No 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 Fish 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 Fishing Ok Beh poteva andare peggio No 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 Fra Fra Fish 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 Ok Che palle che mi Ho messo tutto Porca troia Devo uscire Ok ce la puoi fare Stai calmo Respira Bro voglio solo uscire Che devi fare I bits Che ne so Fai la sub Oh Quello dove va attaccato Eh andava attaccato dall'altra parte Eh vabbè lo vado a prendere Puoi spostarti un po' in basso Che non passo quei piedini Eh che Che Ok Il gesto che hai fatto è incredibile Ragazzi The fish go fishing Così che si fa Di così Di così Vai così Vai di lato Di lato del gaming Togli sto coso Ok Cosa 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 Non posso toglierlo Lo capisci che è attaccato alla minchia Ok L'hai preso Perfetto Ora non staccare quella mano E porta il moschettone Dall'altro lato Non te lo attaccare addosso Perché se no ti sei attaccato due moschettone addosso Se hai fatto cazzo Sì infatti Ok Allora Ora Fammi capire qua Ora io questo No 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 Fish 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 Piano Piano non mi mette l'ansia Piano non mi mette l'ansia Fish Fishing fatto A posto Ok Ora posso fishare in santa pace Ok Poi che devo fare? È che Devi girarla Porco due Con tutta la forza Di Paolo Come la giro io sta cosa? Eh io Non c'era nelle istruzioni Uè Cioè io se la prendo qua me la fa Eh Come va? Oh 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 Vai vai Girala 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 No bro va dall'altro lato Perché vedi Vedi i moschettoni Oh oh vai 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 Aaaaaaah Lo faccio più lento? No Forse Intanto Vai Aspetta Mi sono girato Allora Io sto facendo il Come si chiama Il quattro di bastoni Brosto Tutto cacato addosso Vai Ce la puoi fare Vai 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 Eccolo 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 Non era questa la direzione Però Vai aspetta Vai spingerlo di lato A me non dà segni Non dà segni Allora questo bro vuol dire Che ci siamo cacati addosso Eccolo Forse è di là Non mi dà segni Di Mi pita Zero Boh zero Bisogna estrarre la punta Ma porca Puttana No Come devi fare Devi staccare il cavo E attaccarlo alla cosa Hai capito bro Allora Confidi in me? Confido Addio bro No No Ho lasciato il cavo Sono un coglione Sono un coglione Ok Tanto torna indietro È la legge del Wes Anderson Vai Prendilo Ok Mi hai spiutato la fustata E' fatto di vai Lo prendo No Ho sbagliato No Girati Piano 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 Vai Ok 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 Non ti lascerò andare mai più Te lo giuro L'hai preso Godo Vai Ma che bravo Non mi staccare Ho preso con lo sbagliato Ho preso con lo sbagliato Che poi che bastardi Che l'hanno messo là vicino Mannaggia a loro E quanto gliene Ok Fishing 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 Madonna che La legge di Poké Tony Yes Eccolo là Eccolo là Eccolo là Fantastico bro Bravissimo Bravo figlio Ora ti devi solo bilanciare Fantastico Fantastico My friend Guarda Guarda a modo abbono lo spazio Allora adesso ti canto Louis Armstrong Vai Ehm I see Dream Something I see them blue Eccolo tira lo tiro Oh fantastico Fantastico Davvero fantastico Oh bro Sta andando Come funziona l'erezione E devi Ereggerlo Hai finito Era così No 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 Ora devo girarlo Quindi Quindi prima l'hai reso L'hai fatto E adesso lo stai Lo puoi sbrintare Ok Niente No no Da me niente Eccolo Eccolo Fermalo No era prima Era prima Era prima E mezzo Ok Era prima Ok 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 Ma metti Dall'altro lato Che forse è meglio Non hai capacità di manovra Scappata peepo Vai Vai Fiscia Fiscia In quella direzione Human fall flat Let's go Non staccare il capo Ti spacco la faccia No 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 Vai Aspetta Aspetta Piano 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 Allora mi fico qua e spingo con i piedi Ho deciso Eccolo Più sinistra 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 Eccolo Eccolo No Best Leggermente più avanti ancora Leggermente Oh Mamma mia Ora abbiamo tornato indietro Nel corpo No Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo eretta completamente Sì abbiamo fatto proprio De skip Di toglie Mamma mia E questa era solo la seconda Però lo riportiamo Sto gioco Se vuoi Grazie Mi piace Allora facciamo così Se arriviamo a 2.3 4.000 Mi piace Riportiamo questo Gioco in live Calibri Il disco parabolico Che vuol dire Il calibri Il disco parabolico Dobbiamo fare rapporto Adesso L'abbiamo indietro Sì sì Vabbè È molto semplice Faccio questa cosa Devi staccare il cavo Ah ok perfetto No No Fra Bro 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 Aspetta Fish Fish Bra Ormai posso Posso andare pure Senza moschettone No Chiudo pure guarda Madonna C'è casa tua Ormai io ci vivo qua Vabbè ora è sempre Sembro Andiamo Totalmente in fishing mode Ole In the jungle The mighty jungle Lion Che canzone Che del cazzo canti Attento alla porta aperta Andiamo a fare rapporto Devo starlo dire Dai guarda quanto sei lontano Bro Dove sono Ok No 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 Fra non puoi andare così lontano Ci perdiamo i segnalos Poi Andare Sopra Non ha starnutito Ha sputato Via effettivamente Ragazzi Io starnutisco Esattamente come Starnutirebbe Madre Teresa Di Calcutta Ok Non abbiamo niente Il diverso Solo il fatto che Lei è una Sporca bugiarda Madonna Allora Ok Allora Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Yep Cioè ti rendi conto Che noi siamo riusciti In questa opera Fai che io Quando ho letto il manuale Non avevo capito nulla Allora Domanda a bruciapelo Più difficile questo O cuphead Guarda Ti dico Cuphead Senza Ombra di dubbio Diopinabile Nobile Ole Ci sono Ci sono Amigos Non devono Spammare Ragazzi Questo è un buon momento Per spammare Un preso Il foglio Eccomi Eccomi Arrivo Dai Ti tira le cose Rompi le palle Olè I am the game Oh Oh ragazzi Clap clap in chat 40 minuti Però Per fare sto livello 40 Però 40 minuti Gaming Mamma mia Secondo i miei calcoli Ci vorranno circa 8 live Per finire questo Porca troia ragazzi Clap clap Che sono 1 2 3 Ah ma non sono Ok va bene Potrebbero essere Potrebbero essere Tanti Per me sono un 6 Ancora Sono 7 i livelli Allora vediamo Che cosa dovremmo fare qua E poi mandiamolo a fanculo Sì esatto Vediamo Vediamo Ok Quello è un coso Sì È una scatoletta di tonno E che dovremmo fare A questo livello Assemble il telescopio Che dobbiamo fare Tecnicamente Si dovrebbe assemblare Il telescopio Ma lo scopriremo Eventualmente In una prossima live Di questo gioco Aspetta aspetta Lo voglio vedere qua Lo voglio vedere Vai tiralo Tiralo Voglio vedere solo Quanto è complesso Il foglietto Vai Ma vai a cagare Oddio Non sembra difficile Guarda Devi usare la chiave Nel Coso Beh Sembra semplice Ma vai a cagare No Non resiste No Cioè devi fare No Poi devi modellare Le cose come se fosse Un gundam Sì sì Basta Basta Direi basta Chat Oh mio dio Che fatica Mi è piaciuto un botte Io mi sono divertito Mi sono divertito Peccato che ora Devo cagare Tantissimo Quindi sarà divertente Ti lascio al tuo cacco Ciao ragazzi È stato un piacere Io raido Leo Non so Tu adesso chi raido Manderò Manderò tutti da Leo Ciao bello Buona cagare Ciao bello Buona cagare Ciao 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 Buona cagare Buona cagare Buona cagare